Stop alla ricerca di Stefano Barosco, l'escursionista trevigiano di 36 anni di cui non si ha più notizia dallo scorso 3 settembre, quando è stato visto l'ultima volta in località Prademur sopra Cencenighe in Cadore. Nella giornata di ieri le squadre del soccorso alpino sono state elitrasportate nei diversi punti da perlustrare dall'elicottero della sezione aerea di Bolzano della Guardia di Finanza, che poi ha provveduto anche al recupero nella fase di rientro. Sono stati ritentati tutti i sentieri perlustrati nei giorni scorsi, anche con l'aiuto dei cani molecolari, allargando l'indagine anche alla porzione più alta dell'itinerario che da Prademur porta a Rudelfin Alto, ma dell'uomo nessuna traccia. Le ricerche sono state dunque interrotte.